non in realtà non è una cosa è un po' di scopportunità si deve iniziare chi è questa la forza? Cia, davanti si deve vabbè va dai vabbè 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 andati con i porti vabbè 4,4 5,4 5,4 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,6 6,6 Eh Shashi, già vanno! Grazie a tutti.